Io grazie a San Patrignano ho riscoperto i valori della famiglia. Tra l'altro qua in comunità è come una famiglia allargata. Siamo oltre 1300 persone, tra cui il più piccolo ha 14 anni, arrivando al più grande che ne ha 50. Il momento più bello che c'è in comunità è la sera di Natale, quando ci ritroviamo tutti quanti nel salone a mangiare e proprio senti quell'atmosfera calda. Io non vedo l'ora che arrivi il Natale qua a San Patrignano per riprovare quella sensazione di famiglia che ho ritrovato. Grazie a tutti.